Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli presentati all'interno del Nintendo Direct. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché possiamo finalmente mettere un punto su tutta la questione Nintendo Direct e tirare le somme di un percorso che ha rischiato di chiudersi in modo anticlimatico ma che alla fine ci ha regalato un Direct degno di tutto rispetto. Prima di fare però il riassuntone di tutto quello che è stato mostrato durante il Partner Showcase fatemi dire molto velocemente solo un paio di cose. Da domani ricomincia una programmazione più normale con tanto di solo risposte sbagliate e General TG Poro. Inoltre dalla prossima settimana conto di ricominciare a portare anche video di stampo diverso qui sul canale e poi lasciate che vi ringrazio ancora una volta per tutto il supporto che mi date qui ogni giorno su YouTube ma anche sul sito Viola, pure quando non ci sono i Direct veri e propri. Ormai siamo a un passo dai 25.000 iscritti qua sul canale e ancora fatico a realizzare di essere riuscito a creare una community così grande partendo solo ed esclusivamente dal mio entusiasmo. Grazie di cuore perché sì, questi eventi sono speciali ma sapere di poterli condividere con un pubblico così vasto è una delle sensazioni più belle e gratificanti che mi siano mai capitate. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora partiamo subito dalla domanda fondamentale questo benedetto partner showcase è stato un evento deludente? A mio avviso no, anzi le cose sono andate molto meglio di quanto mi sarei mai aspettato anche se bisogna affrontare il tutto dalla giusta prospettiva. Mi fa piacere notare però che il consenso generale sia quello di promuovere questa presentazione che sì, non avrà scritto la storia dei Direct, né sarà stata in grado di sorprenderci veramente con una bomba atomica totalmente inaspettata ma che ha saputo comunque intrattenere per 25 minuti con il giusto ritmo e cercando di spaziare tra i generi nel tentativo di far avere qualcosa di interessante per tutti i tipi di giocatori. Probabilmente se dovessimo dare un voto a questo Direct Mini penserei a un 7 pieno o magari qualcosina in più un 7,5 per voler premiare la capacità di riuscire finalmente a legare al sottogruppo dei Direct Mini Partner Showcase una presentazione più che sufficiente. Fossi stato Nintendo avrei abbandonato definitivamente il sottotitolo ma alla fine questa scelta sono sicuro abbia giovato nell'aiutare a percepire positivamente il Direct. Partendo con aspettative così basse era difficile riuscire a deludere il pubblico anzi è stata ancora più semplice far apprezzare dei reveal che altrimenti avrebbero rischiato di passare in sordina. Quindi sì, l'assenza di un vero Direct si è sentita e un giugno senza quello che forse è il mio appuntamento preferito dell'anno sembra quasi un mese incompleto però in questo caso mi sento di premiare la concretezza di una presentazione che ha dato spazio al gameplay e alle date di presentazione. Per quanto sia elettrizzante venire a scoprire il ritorno di un titolo attesissimo o l'ennesimo capitolo di una serie di richiamo in un mondo post Metroid 4 e Bayonetta 3 all'hype di un logo reveal preferisco la sicurezza di sapere che quanto mi è stato appena mostrato potrò giocarlo entro pochi mesi. E prima di andare a commentare tutto quello che è stato mostrato secondo me bisogna fermarsi un attimo a riflettere sulla situazione rumor, leak e spoiler perché ormai è palese come l'informazione videoludica non riesca a prescindere da questi strumenti nel bene e nel male. Capisco come molti di voi trovino il continuo discutere di leak e rumor come un depotenziamento dell'esperienza un qualcosa che rovina il godimento del venire completamente sorpresi da un annuncio epocale. Ecco rispetto questo punto di vista ma per quello che faccio su YouTube credo che il ragionare su rumor e indiscrezioni faccia parte del gioco e anzi tutto il viaggio che porta poi al giorno del direct state of play o qualsiasi altro evento di rilievo è forse la parte che preferisco di tutta quanta l'esperienza. Mi piace immaginare scenari possibili, fantasticare su mosse future e prendermi il rischio di sbagliare quando si gioca a prevedere ciò che ancora non è stato ufficializzato ma capisco che possa essere visto come un esercizio inutile. Quello che posso dire però è che non è affatto semplice stare appresso i rumor e riuscire a filtrare le informazioni è diventata ormai la parte più complicata di tutte soprattutto in un momento storico dove non sembra esserci alcun tipo di controllo delle fonti state molto attenti a quello che leggete o sentite dire in giro e commisurate le vostre aspettative sempre in modo adeguato. Sono il primo a prendere delle cantonate assurde e diffidate sempre e comunque da titoli clickbait tutti in maiuscolo, facce di Mario che piangono e tizi senza alcuna autorevolezza che fingono stupore in thumbnail. Evitateli come la peste. Detto questo è giunto il momento del riassuntone poraccio al 100%. Passiamo in rassegna tutti gli annunci di questo direct o almeno quelli che mi hanno impressionato e dove possibile cercherò di aggiungere informazioni aggiuntive ricavate esternamente alla presentazione. Partiamo! Fortunatamente Nintendo ha deciso di togliere subito dalle scatole Monster Hunter Rise Sunbreak. Chiariamoci il gioco è chiaramente un titolo di richiamo e venderà tantissimo però siamo arrivati al punto in cui è stato mostrato anche troppo, anche basta con i trailer di presentazione di Sunbreak. Subito dopo è toccato a una bomba in parte liccata poco prima del direct ovvero il porting di Nier Automata una notizia che magari un paio di anni fa avrebbe generato un vero tsunami di interesse ma che oggi paga l'essere arrivata eccessivamente in ritardo. È un bene che la data di uscita sia fissata per quest'ottobre ma non penso che si tratti di un titolo che giovi particolarmente dal poter essere fruito in portabilità e credo che siano in pochi ormai quelli incuriositi dal capolavoro di Yoko Taro a non averlo ancora provato. Su altre console poi potrà essere recuperato a un prezzo sicuramente inferiore è fatico a essere realmente entusiasta per questa conversione però la nuova copertina è tanta roba, non trovate? Occhi puntati su Lorelaian del Laser Eyes e per svariati motivi è un titolo chiaramente ispirato al genio creativo di Suda51 e nel breve trailer si vedono tantissimi palesi rimandi a Killer7, Killer is Dead e anche a esperimenti ancora più di nicchia come Flower, Sand and Rain e poi ho scoperto che il team dietro alla lavorazione Simogo, gli autori di Sayonara Wild at Hearts si pronuncia un gioco unico nella sua presentazione e anche nel genere. Dita incrociate per il seguito di Bomberman R che potrebbe rappresentare la rinascita del brand dopo il non proprio eccelso primo capitolo che poi è stato anche trasformato in un free to play la modalità editor di livelli potrebbe aggiungere quella marcia in più al livello contenutistico di cui il titolo aveva disperatamente bisogno l'uscita però è fissata per un generico 2023 continua poi la voglia di far riscoprire la storia del brand di Mega Man e soprattutto dei grandi classici GBA con una collection comprendente tutti i Battle Network usciti su Game Boy Advance si tratta di ben 10 titoli in un'unica raccolta ma in realtà si tratta un po' di una fregatura il 3, 4, 5 e 6 sono infatti episodi composti da doppi giochi un po' come i titoli Pokémon comunque i due volumi separati saranno disponibili solo in digitale incrociamo le dita per una versione fisica della collection intera eccoci poi a quella che è stata una vera e propria bomba almeno per me la Repack di Pac-Man World è una sorta di riproposizione tra il remaster e il remake un po' come è accaduto per Clonoa, credo di uno dei migliori platform 3D di sempre che purtroppo però non ha mai goduto della popolarità che si merita sì avete capito bene Pac-Man è stato protagonista di un platform di ottima fattura e sperando che questa Repack sia un'edizione degna non dovreste lasciarvi sfuggire assolutamente la possibilità di scoprire Pac-Man World proprio oggi pensavo a Stray ed ecco che arriva Blank quella che sembra una sorta di rivisitazione animalesca di Ico il breve trailer di presentazione ha mostrato un titolo dal grande potenziale l'idea di poter giocare in co-op anche online non sembrerà nulla di trascendentale ma vedere un'opzione del genere su Switch non è affatto scontato l'essersi assicurati l'esclusiva temporale su Return to Monkey Island è un vero colpaccio per Nintendo e viene quasi da chiedersi se sia una sorta di risposta per le rime all'aggressività di Microsoft che prima ha soffiato l'esclusività di Silksong e poi ha provato ad aggredire il mercato giapponese con la serie di persona di cui parleremo dopo lo stile c'è tutto, ha la faccia di chi si lamenta della nuova veste grafica e l'uscita è ancora prevista per un generico 2022 anche qui speriamo in una bella edizione fisica stranamente piazzato a metà presentazione per essere uno dei titoli più importanti di questo direct e puntualmente autoliccato da Ubisoft stessa Mario Rabbids ha veramente stupito non perché non mi aspettassi niente di che anzi sono sicuro che si tratterà di un gioco divertentissimo e geniale proprio come il suo predecessore ma più che altro perché ormai lo davo per perso ed ero sicuro sarebbe slittato al 2023 la data di ottobre invece non è che una conferma graditissima il hype è a mille a parte Bowser è stato mostrato poco che ancora non si fosse intuito dalla presentazione dell'anno scorso ma non temete domani ci sarà alle 18 un direct dedicato al titolo che di sicuro approfondirà tanti nuovi aspetti della produzione e noi ovviamente lo seguiremo insieme sul sito Viola è stato poi il turno di qualche titolo di minore entità ma attenzione non sottovalutate RPG Time The Legend of Wright perché potreste prendere sotto gamba una produzione dal concept stra interessante l'idea del libro gioco va a braccetto con quanto visto qualche settimana fa su The Plucky Squire ma anche qui la creatività sembra essere la star assoluta di un titolo che rischia di passare inosservato in un contenitore del genere sarebbe un vero peccato e di Sonic Frontiers vogliamo parlare? la versione Switch esiste graficamente in pari con quanto visto sulle altre console non che si partisse da una base eccelsa ma soprattutto è stato mostrato molto rapidamente qualcosa di estremamente incoraggiante strutture di livelli più lineari e ambientazioni diverse che rimandano all'immaginario e alla palette cromatica tipiche della serie dai che forse Sonic riesce a salvarsi non si tratterebbe di un mini partner showcase senza una bella carrellata di titoli di cui ci si dimentica nel momento stesso in cui finisce il trailer salterei quindi a più e pari tutti i titoli già annunciati come Live Alive di cui è appena uscita una demo Disney Dreamlight Valley Minecraft Legend e No Man's Sky o anche la versione cloud di A Plague Tale e a corpo brutalmente Doraemon Story of Season e Harvey Stella i live sim non fanno proprio per me né quelli più sognanti e rilassati come Story of Season né quelli che incorporano elementi da roguelike alla Rune Factory come Harvey Stella quindi non posso esprimermi più di tanto su questi due giochi però ci tengo a dire che lo shadow drop della collezione da compagnia di Portal è stata una mossa simpatica la collection è proposta a un prezzo quasi budget e il secondo capitolo supporta la co-op sia in locale che online se ancora non avete giocato a questi due puzzle game geniali rimediate immediatamente e chiudiamo con un annuncio epocale arrivato in maledettissimo ritardo ma che alla fine non può che essere uno dei reveal più liberatori di sempre la saga di Persona arriva su Switch e lo fa ripercorrendo quanto appena visto dalle parti di Microsoft si inizia da Persona 5 Royal questo ottobre a cui seguiranno Persona 4 Golden e Persona 3 Portable finalmente aggiungerei per tutti quelli che aspettavano questo momento dal reveal di Joker ai The Game Awards di parecchi anni fa foracci ce l'abbiamo fatta ora bisognerà trovare il coraggio e il tempo per riuscire ad affrontare centinaia e centinaia di ore di JRPG chi se la sente? come considerazioni finali ci tengo a precisare che non è stata una presentazione perfetta e ci sono alcuni grandi assenti di cui si sente il peso mi aspettavo tanto Silksong mentre per Bayonetta vale il ragionamento che abbiamo fatto ieri siamo sicuri si possa considerare un third party? certo è che se oggi abbiamo visto Mario Rabbids anche la strega di Umbra poteva rientrare nella stessa categoria però nonostante queste mancanze scrivendo questo riassunto mi sono reso conto di come ci siano stati tanti annunci interessanti che non mi sono sentito di lasciar passare in sordina e che seppure non si tratti di titoli nuovi a tutto tondo di nomi che smuovono le masse hanno comunque il loro pubblico di riferimento sono sicuro insomma che questo direct non direct sia riuscito comunque a lasciare il segno aspettando il ritorno dei grandi nomi e dei general direct questa presentazione chiude in modo degno un giugno su cui alleggia l'assenza delle tre un mese atipico e frammentato ma che è riuscito comunque a regalare la sua buona dosi di emozioni non trovate? e questo poracci era tutto per oggi vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo per essere passati in live e per tutto il supporto che mi date sempre e comunque anche nelle edizioni mini non mi resta che darvi appuntamento a domani con nuove live e nuovi video ovviamente poracci al 100% voi che potete mi raccomando riposatevi fate bravi ma soprattutto nerdate duro io sono il poro mini Michele Showcase ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa grazie solo questo